Un viaggio a Reims, sinfonia di Gioachino Rossini. È questo il primo lavoro che Rossini scrisse in Francia e venne rappresentato al Teatro Italiano di Parigi il 19 giugno 1825. La sinfonia inizia con un andantino che, dopo accordi vigorosi dell'orchestra, da libero sfoga una bella e malinconica melodia affidata al logo e al flauto. Segue l'allegretto e infine un irresistibile crescendo conclude la deliziosa e originale composizione. Un viaggio a Reims 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 Un viaggio a Reims